Il presepe vivente Il presepe che hai fatto Venite da lontano? Da molto lontano Siete due persone meravigliose Ma lo si vede proprio a occhio nudo Quello Rassegnati Siamo finiti nell'anno zero Ai tempi di Gesù A proposito di stranieri Erode ne sta cercando due Ma allora lei conosce Giuseppe Maria Lei è incinta Che fra l'altro però il figlio non è di lui Esatto In che senso? Gesù Ma manco il catechismo ricognito E allora Ben Flemming Dobbiamo fare qualcosa Per salvare Gesù Guardate Noi rivoluzionari Non lasciamo mai Traccia di noi Se non nella storia Mi racconti com'è andata? Eravamo io Lui e Garibaldi Salvo C'è tutto Manca soltanto il bue E dove lo trovo io? Speriamo che almeno sia un bambino tranquillo Sì no come bambino sarà tranquillo Poi le cose si complicano dopo i 30 anni Moltiplica i pani Cammina sulle acque Buon Natale! Let it snow Let it snow Let it snow Gli anni di Cristo Chi? Grazie a tutti! Grazie a tutti